Voglio ancora credere al futuro, veramente. Ho il cuore, lo dico. Cerchiamo di cambiare qualcosa. Lo stesso sistema che ieri ci ha spinto fuori dall'Italia, oggi ci impedisce di esercitare i nostri diritti politici. Come? Una legge elettorale antidemocratica ha reso impossibile raccogliere le firme per presentare la lista della circoscrizione Europa. Consolati aperti in orari impossibili per chi lavora e nessuna possibilità di organizzare banchetti. Per questo ci rivolgiamo a chi non vota da anni, a chi non ha più fiducia nel sistema politico attuale. Sostieni il nostro tentativo di cambiamento. Adotta il tuo voto. Adotta il nostro voto. Vota potere al popolo. Grazie. Grazie a tutti.